Ciao, sono Alessandro Marra, formatore tecnico di Yamaha e oggi vi parlerò di olio. Per capire che cosa intendiamo quando parliamo di olio e comprendere la sua importanza, dobbiamo pensare che l'olio è per la moto come il sangue per il nostro corpo. L'olio pulisce, raffredda o riscalda il motore, lo protegge dalla corrosione e soprattutto lubrifica i suoi organi interni, facendoli funzionare senza intoppi. Se lo pensiamo in questo modo è facile capire perché la sua sostituzione periodica è fondamentale per mantenere i nostri motori sempre in salute. Yamaha, da oltre 50 anni ingegneri e chimici specializzati, collaborano insieme ai progettisti per trovare il perfetto match tra olio e motore. Il percorso per creare ogni miscela di Yamalube inizia e termina in Yamaha. È stato così dalla prima miscela sperimentale ed è così anche oggi con una produzione in larga scala. Il processo di sviluppo segue da sempre l'idea originale di Jin Ki Kanno, secondo cui la prova della perfetta miscela è affidata ai test ride in cui dei piloti specializzati si assicurano che l'olio Yamalube dia la sensazione di essere un tutt'uno con la moto mentre si guida. Il processo si conclude con l'approvazione da parte di OilSig, un comitato che stabilisce e verifica l'applicazione dei nostri standard interni di qualità e omologa solamente gli oli ritenuti meritevoli di portare il nome Yamaha. Questo è ciò che ci fa dire che l'olio Yamalube è a tutti gli effetti un componente originale di un motore Yamaha. Ma non è tutto. L'unione perfetta fra motore Yamaha e olio Yamalube è data anche dalla speciale composizione dei nostri cilindri. I cilindri Yamaha infatti sono realizzati con una speciale lega di alluminio e silicio che, se abbinata alla giusta composizione chimica dell'olio Yamalube, conferisce il massimo dell'efficienza. Che per te significa maggiori prestazioni, minori consumi e un'eccezionale durata nel tempo tipica dei nostri motori. Quindi, se ami la tua Yamaha, dedicale il suo olio preferito.